Allora, domenica 25 luglio 2021, siamo all'inizio della cresta del corno insieme a un gruppo amici, Sauro, Paolo, Federica e Roberto. Allora, quali sono le aspettative di oggi? Un po' di discesa. Un andare di sotto il gallo. Speriamo che le aspettative di vita sia o meno lunghe. Gallo, la tua rossalina ha preparato le polizze della vita, la tirate fuori? Sì, sì. Come direbbe Franco? Speriamo che la sopravvimento. Bene. E allora, siamo pronti, cominciamo questa avventura. Speriamo bene, ai prossimi aggiornamenti. Ciao ciao. Via! Grazie a tutti. 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 Ciao a tutti. Grazie 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 a tutti.